Hanno vinto quelli che tanto non cambia niente sono tutti uguali o chi se ne frega meglio andare al mare. E' questo il primo partito tanto in Italia quanto nei comuni del Lazio dove si è votato al secondo turno. Ha vinto l'astenzionismo, ha infatti votato appena il 47% degli aventi diritto, meno di un elettore su due. Il secondo elemento che emerge è l'arresto del boom del Partito Democratico, un partito che vince sì in molti comuni ma non stravince come invece era accaduto due settimane fa. Forse in questo caso è stata più la storia delle varie realtà locali a pesare di più. E' il caso di Grottaferrata andata al centro-destra con la vittoria di Giampiero Fontana dopo che la precedente giunta di centro-sinistra si era lacerata in conflitti tutti interni al Partito Democratico dando prova di totale immaturità e incapacità a governare. Al centro-destra tra i comuni sopra i 15.000 abitanti vanno anche altre due amministrazioni Guidonia Montecelio con la vittoria di Eligio Europeis e Cisterna di Latina dove ha vinto Eleonora della Penna, unica donna a diventare sindaco in questa tornata elettorale. Ma il caso più eclatante è quello di Civitavecchia. E' il candidato del Movimento 5 Stelle Antonio Cozzolino a battere l'avversario di centro-sinistra e sindaco uscente conquistando addirittura il 66,6% dei consensi. Con percentuali molto alte, oltre il 60%, il centro-sinistra vince a Fontenuova, Civita Castellana e Ciampino. Sfida tutta a sinistra quella di Frascati che si conclude con la vittoria di Alessandro Spalletta, candidato PD che vince sul candidato di Selle per 150 voti. Partito Democratico battuto, infine a Tivoli. Diventa sindaco Giuseppe Proietti, sostenuto da una lista civica. Grazie a tutti.